Amici ed amiche di Unboxo benvenute e benvenuti sul mio canale, rieccoci per il volantino settimanale della Parkside e del fai da te in generale by Lidl. Abbiamo da giovedì 27 di giugno delle offerte di miscellanea estremamente interessanti e poi durante il video entriamo nel vivo del vero e proprio volantino fai da te Parkside. Andiamo a vedere la miscellanea 0,99 abbiamo un sacco di accessori per abrasione dalla carta vetro alle spugnette tipo scotch bright alle pagliette per la lucidatura. Un pochino di tutto 0,99 alla confezione davvero tanto convenienti. Squadre combinate righelli calibri e così via per 4,99 alla confezione. Attenzione perché molti di questi articoli sono in metallo quindi parliamo di articoli durevoli, ben fatti e precisi. Se doveste aver bisogno di lavorare in maniera precisa ed affidabile questi utensili fanno per voi solo 4,99 al pezzo. Andiamo nella sezione assemblaggio, montaggio, incollaggio e così via. Morsa, morsetti a mano o colla per legno 2,99 e i vari set Patex da quello per le riparazioni espresse a quello per le riparazioni estreme passando per il nastro Power Tape 3,99 al pezzo. Davvero convenienti specialmente perché si tratta di casa Patex ovvero di un marchio internazionale. Set di guaine termoretrattili 4,99 c'è un po' di tutto per un massimo di tensione nominale di 600 volt, una temperatura massima operativa di 125 gradi. Qui abbiamo davvero tante tante misure differenti, 125, 162, 225, 450 pezzi per quanto riguarda invece il numero di pezzi presenti all'interno delle confezioni. Pratici, cofanetti, trasparenti per sceglierle e per portarcele diciamo così nella borsa da lavoro. 4,99. Per tutti i possessori di Lidl Plus abbiamo la scatola portaoggetti da 30 litri, meno 20% da 7,99 e le calze da lavoro per uomo tipo fantasmino cioè quelle corte 3,99 per 3 paia. Ragazzi queste sono convenientissime, parliamo di Dunlop, un grande marchio, 3 paia 3,99 sono praticamente impossibili da trovare di questa qualità. Finalmente siamo arrivati a ricevere il nostro benvenuto come di consueto da Mr. Arnold Schwarzenegger. Da giovedì 27.6 troviamo in prima pagina la pistola termica da 17,99, un flusso d'aria fino a 500 litri al minuto con una potenza di circa 600 gradi massimi al minuto per 2000 watt. Attenzione perché non è una pistola ricaricabile ma è una pistola con cavo, in ogni caso estremamente potente e a questo prezzo davvero conveniente. Avvitatore ricaricabile con 10 Nm di potenza 17,99 con 26 bit quindi anche accessoriato. Set punte per trapano da 5 o 6 pezzi con la pratica scatolina nuovo design Parkside 2,99. Carrello trasporto universale tondo quindi 380 mm di diametro oppure rettangolare circa 60 x 30, 12,99. Attenzione perché le ruote sono di materiale veramente duro, parliamo di una specie di nylon rinforzato, con una capacità di carico di 250 kg. Grande ritorno invece per il best seller Parkside abbiamo il trapano da circa 50 Nm con doppia batteria, carica batterie, tre scatoline di accessori tra cui punte per legno, punte per metallo e plastica e i famosi bit Parkside, 69 euro con mandrino spindle lock che si può anche estrarre quindi se volete utilizzarlo per bucare col mandrino normale potete farlo altrimenti estraete con un semplice click il mandrino e lo utilizzate come avvitatore. Attenzione perché è un avvitatore abbastanza potente ma anche molto molto progressivo. Seconda pagina del volantino Parkside fai da te andiamo a vedere la lampada da lavoro ricaricabile 6500k per 9,99 ottima secondo me per le emergenze ma comunque davvero davvero luminosa perché parliamo di una luce fredda da 100 lumen a 800 lumen. 7 di lime per officina da 17 pezzi con una pratica valigetta trasparente più la spazzolina con fili di ferro per la pulizia delle lime stesse 14,99. 7 di maglie 4,99 al pezzo oppure di pantaloni cordura 17,99 al pezzo molto molto carini perché abbiamo anche la parte rimovibile dal ginocchio in giù per limitarne la lunghezza quindi insomma in quanto avvestiario parliamo sempre di Ecotex di Cotton Made in Africa e di un prezzo abbastanza conveniente specialmente perché questi cordura sono i cordura 10x che hanno i rinforzi sulle ginocchia. 7 chiavi a brugola esagonali 8 pezzi con la famosa impugnatura a T quella che spesso e volentieri ci serve per fare un pochino più di forza o comunque per avere un utilizzo un po' più conveniente di questo tipo di chiavi 8,99 qui abbiamo 8 pezzi. 7 di chiavi combinate angolo di lavoro 5 gradi con 72 denti 9,99 qui abbiamo sia il portachiavi scusatemi se lo chiamo in questa maniera ma avete capito diciamo così quello che è un accessorio per appendere queste chiavi al muro della nostra officina sia delle chiavi che secondo me sono veramente resistenti abbiamo davvero un prezzo straordinario per delle chiavi che sono resistenti, durevoli e precise almeno per l'obbista io le ho acquistate, ce le ho da circa un anno non mi hanno mai creato problemi, non mi hanno mai lasciato diciamo per strada e sono delle chiavi davvero semplici da utilizzare anche per un'obbista offerta col secondo pezzo al 50% abbiamo i rotoli di nastro oppure la pistola dispenser 4,99 e qui ragazzi questo è un set fondamentale per chi come me trasloca spesso e volentieri perché avere un dispenser che sia ben funzionante e del nastro di ottima qualità qui ne abbiamo 66 metri ciascuno per 50 mm di spessore nei 4 rotoli per esempio da 4,99 ecco ci favorisce nell'impacchettamento del nostro materiale ecco io devo dire che spesso e volentieri mi trovo a traslocare per motivi di lavoro quindi questi set fanno un pochino parte della mia vita ho già provato questi set parkside spesse volte d'estate vengono riproposti e sono davvero affidabili morsetti ad una mano, 2 o 4 pezzi 150 o 100, 40 o 20 kg di potenza 9,99 sono set con i nuovi colori parkside sono dei set veramente affidabili ci sono anche quelli molto più grandi che sono da 300 mm per 60 kg e credo che quei set siano da soli due pezzi ma in ogni caso sono davvero soddisfatto di questi set perché li posseggo e li uso quotidianamente e così dopo aver visto questo fantastico volantino vorrei soffermarmi sul pezzo principe diciamo quello più importante secondo me il vero e proprio best seller ovvero questo trapano brushless è un trapano che adesso con le nuove batterie col cell balancing promette di avere una durata ancora maggiore nel tempo rispetto ai vecchi modelli io non finirò mai di consigliarvi di acquistare questo trapano perché mi ha letteralmente accompagnato in due traslochi nel montaggio e nello smontaggio del mio ufficio per ben due volte l'ho utilizzato, abusato l'ho fatto cadere migliaia di volte insomma gliene ho fatto di tutti i colori ed è ancora il mio compagno di lavoro ideale quando devo fare dei lavoretti fai da te e anche quando lo devo usare a sproposito e sì perché può capitare di dover usare un trapano per il fai da te per l'hobbista magari in maniera anche troppo continuata e per troppe ore non si è mai rovinato ed è ancora molto molto resistente dopo quasi due o tre anni di lavoro considerate amici che questo tipo di trapani con batterie, con caricabatterie con accessori, con la borsetta inclusa dovrebbero avere un prezzo secondo me molto più alto Parkside lo proponeva circa 50-59 euro in passato adesso è aumentato a 69 però bisogna dire che c'è anche il cell balancing quindi le batterie durano più tempo insomma secondo me è un ottimo acquisto io cercherò di acquistarne un altro se dovessi trovarlo presso la mia Lidl di fiducia perché sono davvero molto contento di questo utensile e quindi se lo dovessi trovare ve lo farò spacchettare quello che posso dirvi è che sono davvero entusiasta di questo utensile un saluto a tutti e a tutte buon fine settimana da Unboxo Grazie mille! Grazie mille!